Sono Franco Baggiani, direttore della Scuola Comunale di Musica dei Comuni di Pontalsieve, di Comano, Londa, Pelago e Rufine. Una scuola che è sul territorio dal 1984 e che ormai è assolutamente radicata e possiede degli ottimi risultati. Sono circa 400 gli allievi che tutti gli anni frequentano le nostre scuole in Val di Sieve. Abbiamo un alto tasso di produttività attraverso numerose formazioni che vanno dai bambini agli adulti, come il Collo di Voce Bianca e CP, diretto da Davide Ortega, come tutte le formazioni a indirizzo ROC, dirette da Leonardo Passigli e Fabio Ferrini. Abbiamo un settore jazz importante, del quale mi occupo personalmente e soprattutto offriamo tre settori fondamentali che sono il settore per i bambini e la formazione di base, il settore a indirizzo classico e ad indirizzo moderno, cioè in particolare rock, blues, jazz e tutte le forme musicali moderne. Gli insegnanti che sono oltre 35 in tutte le nostre sedi sono tutti professionisti scelti attraverso un percorso di qualità che abbiamo consolidato negli anni. La Scuola Comunale di Musica organizza anche numerosi eventi, i momenti fondamentali sono l'inizio della scuola a settembre con numerosi open day e concerti degli insegnanti, periodo natalizio nei concerti di Natale e a Pasqua è un altro momento importante e più ci sono i saggi finali. In totale, mediamente, la scuola organizza 75-80 eventi annui fra piccoli eventi e eventi più grandi. Vi aspettiamo alla Scuola Comunale di Musica.